Bentornati in studio, apriamo questa seconda parte del nostro telegiornale con una notizia. Serenità e fiducia sono i sentimenti con i quali accolgo il provvedimento di dissequestro dei box del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello. Sono queste le parole del sindaco Giuseppe Nicosia e che aggiunge da parte nostra, detto il primo cittadino di Vittoria, faremo quanto di competenza attraverso il bando pubblico per la riassegnazione delle concessioni già deliberato attraverso i dovuti controlli e i progetti di rilancio della struttura, alla luce di quanto previsto dal nuovo regolamento che si andrà immediatamente a redigere e ad approvare. Un incontro per fare il punto sulla Giunta Nicosia e sulle sue mancanze è stato fatto dal gruppo consigliare del PDL durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Vittoria. Sentiamo. Conferenza stampa questa mattina a Vittoria del gruppo consigliare del PDL. Giovanni Moscato e Andrea Nicosia fanno le proprie riflessioni sulle nomine fatte dal sindaco Giuseppe Nicosia e sulla nuova composizione politico-amministrativa del governo cittadino. Ogni sei mesi non si può fare un rimpasto di Giunta, tra l'altro non manca la progettualità. Da dicembre ad oggi, negli ultimi tre mesi, non è stato portato in Consiglio umano neanche un atto amministrativo. Quindi è chiaro che la vecchia Giunta era quella che aveva soltanto fini elettronalistici. Speriamo che qualcosa cambia, anche sui miei dubbi, perché comunque si tratta di un ritorno al passato. Le nuove figure entrate sono già ex assessori e non mi pare che i risultati della scorsa legislatura siano stati così eccelsi da meritare una conferma. Ma oggi facciamo questa conferenza stampa anche per parlare di alcuni gravi casi di conflitti di interesse. Noi riteniamo, ad esempio, e lo chiediamo a Granboggio, che il presidente della Commissione Balancio, Concetta Fiore, oggi nuovo assessore al bilancio, si dimetta da presidente della Commissione. Perché è inimmaginabile pensare che la stessa persona emette l'atto quale assessore e la stessa persona poi si controlla la validità formale, regolare e tecnica dell'ossessuale. E poi per non parlare anche dei nuovi consulenti, sono stati nominati dei consulenti che hanno chiaramente conflitto di interesse anche con le proprie competenze amministrative. Perché il dottore Granizzo, che è stato nominato consulente ai servizi sociali, alle problematiche sociali, è presidente di una cooperativa sociale e proprio qualche giorno fa, in qualità di, già da consulente, ma in qualità di presidente di questa cooperativa, è venuto in Commissione bilancio per richiedere delle somme per la propria cooperativa. Allora, così non si può andare avanti. Purtroppo i risultati amministrativi non si vedono. Il nostro giudizio sui primi sei mesi di questa giunta e su quello e sul nuovo rimpasso è assolutamente negativo. Anche sulla questione del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello e sulla riapertura dei box, i due esponenti del PDL hanno sottolineato di non aver preso una posizione fino ad oggi, hanno detto, perché le indagini fanno il loro percorso e non compete alla politica a giudicare. Esponenti di maggioranza e d'opposizione hanno fatto delle dichiarazioni e hanno aggiunto quasi da caccia alle streghe, nei confronti dei commissionari che non condividiamo. Oltretutto si tratta di amministratori, sia di maggioranza che di opposizione, al governo da oltre 30 anni. Anche sull'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, presentato dal Movimento Democratico Territoriale, ma non sottoscritto dal PDL, Moscato ha affermato che non si può accettare questo atteggiamento pregiudiziale nei confronti di categorie di lavori e cittadini. Noi hanno concluso, esprimiamo solidarietà a tutte le categorie di lavoratori. Ed anche il Partito Democratico Vittoriese ha fatto una dichiarazione dopo il dissequestro dei box di Contrada Fanello. Il PD, infatti, con una nota, ha affermato di aver preso favorevolmente l'intervento di dissequestro di tutti i box del mercato ortofrutticolo. Il PD ha tenuto rispetto a questa vicenda, hanno aggiunto un profilo di prudenza che vuole continuare a mantenere. Però non può che stigmatizzare tutti coloro i quali all'indomani del provvedimento di sequestro dei box del mercato hanno gridato al mostro. Il PD, inoltre, ha voluto esprimere il proprio plauso nei confronti degli operatori onesti che hanno subito il clamore di questi giorni. Auspicando che l'Associazione Commissionaria Ortofrutticoli riesca, insieme alla politica, hanno concluso a ristabilire la vera immagine del mercato alla produzione più grande d'Europa. Regolamento di protezione civile al centro del dibattito politico. Per primo, Nello Dieli, coordinatore cittadino del Fli, aveva parlato del regolamento, ma dopo l'occupazione dell'aula consigliare Carfi, il dibattito si è acceso. Sentiamo. Un argomento che sta facendo discutere gli esponenti di maggioranza ed opposizione della politica vittoriese è la mancata approvazione del regolamento comunale di protezione civile, portato in consiglio ma non discusso. Per il sindaco Giuseppe Nicosia, la mancata approvazione è stata impedita dall'inciviltà delle rimostranze della farsesca occupazione dell'aula da parte dei consiglieri comunali che hanno interrotto lo svolgimento dei lavori. Per i consiglieri di Movimento Democratico Territoriale Grande Sud che hanno occupato l'aula, il regolamento è stato posto più volte da più di un anno all'ordine del giorno del Consiglio e più volte, hanno detto, farsescamente ritirato dalla stessa amministrazione. Da ultimo, nello scorso mese di dicembre, dall'allora assessore D'Amato, senza alcun giustificato motivo. Anche per il PDL, l'atto è sottoportato quattro volte in aula per poi essere ritirato, nella passata giunta dall'assessore mascolino, in quella attuale da D'Amato. Oltretutto, ha aggiunto Moscato, il regolamento non è altro che un copia e incolla della bozza, con gli stessi errori ortografici all'interno che la Regione aveva messo a disposizione dei comuni. Se il sindaco, ha concluso Moscato, vuole discutere l'atto, lo porti in consiglio. Noi abbiamo già pronti gli emendamenti. Assessore nella passata giunta, oggi esperto per la protezione civile, Pippo Mascolino ha risposto al coordinatore cittadino di Futura e Libertà nell'Oddieli, che per primo aveva parlato del piano comunale di protezione civile, dando via al dibattito, accesosi dopo l'occupazione dell'aula. Il piano verrà portato in consiglio, ha detto Mascolino, e subito dopo la protezione civile si doterà di una nuova struttura. All'inizio del prossimo mese presenteremo anche in prefettura il nuovo modello della costituenda struttura. Quindi il sindaco, ha concluso Mascolino, con un suo decreto, istituirà l'aggiornamento delle nuove funzioni che sederanno nel tavolo del centro operativo comunale. Doppio appuntamento questo fine settimana per i giovani democratici di Vittoria. Quest'oggi primo congresso cittadino nella sede di via Castelfidardo 146. e domani mattina alle 10 nella sala Avis ci sarà il primo incontro della scuola di formazione politica organizzata dai giovani democratici della provincia Iblea. E cambiamo argomento. Si è riunito questa mattina il tavolo provinciale dello sviluppo e del lavoro per definire le richieste da avanzare durante la manifestazione che si terrà il primo marzo a Palermo. Sentiamo. Conferenza stampa stamani presso la Camera di Commercio di Ragusa del tavolo provinciale dello sviluppo e del lavoro. Oggetto di discussione in generale la crisi economica che sta sfissiando la provincia Iblea e che non accena ad alentare la morsa, è in particolare la manifestazione che si svolgerà il prossimo primo marzo a Palermo che si propone l'obiettivo di combattere questa crisi. La manifestazione dal titolo Marcia per il lavoro produttivo ha come obiettivo principale la modernizzazione della nostra regione perché imprese, lavoratori e giovani chiedono un piano straordinario per sostenere gli investimenti e il lavoro produttivo nella legalità. Il tavolo provinciale nell'incontro di oggi ha voluto fare il punto sulle richieste da avanzare durante la manifestazione per una nuova Sicilia a partire dal piano straordinario per l'attivazione di opere infrastrutturali di investimenti canterabili. Altra richiesta riguarda la concreta attivazione dei fondi europei e il cambiamento delle procedure inique di riscossione della Serit. Infine si chiede lo snellimento delle procedure amministrative. Il tavolo provinciale auspica che alla manifestazione del primo marzo si possa riscontrare ampia partecipazione affinché l'attenzione resti alta e faccia di questo incontro una protesta pacifica ma al contempo forte e responsabile. Riunione della quinta commissione consigliare della provincia di Ragusa. All'ordine del giorno la questione che riguarda i canoni dei varchi degli accessi laterali sulle strade provinciali e il bando per i fondi ex Isice. Sentiamo. Varchi di accesso laterale sulle strade provinciali ancora al centro dell'attenzione politica. La quinta commissione consigliare della provincia di Ragusa ha discusso della possibilità di proporre all'aggiunta un aumento differenziato delle tariffe dei varchi d'accesso dopo che l'atto amministrativo era stato recentemente sospeso su richiesta della stessa commissione. Un'indagine effettuata dai cantonieri della provincia ha accertato un notevole numero di varchi stradeali non autorizzati soprattutto sulle SP85 che creeranno problemi tecnici al momento della prevista posa in opera dei guardrail lungo tutta la città d'arteria provinciale. Se sono nati amministrativamente questi varchi potranno rappresentare un imprevisto aumento di entrate per la provincia e conseguentemente l'amministrazione potrà rivedere l'intera regolamentazione del settore e le relative tariffe differenziando l'uso che si fa dei varchi d'accesso sulle strade provinciali. Nel corso della riunione della commissione si è discusso anche dei fondi ex Insicem visto che a giorni l'aggiunta approverà il bando per l'utilizzo dei fondi che le imprese eblee operanti in qualsiasi settore dell'artigianato commercio, servizi ed agricoltura potranno utilizzare per prestiti di conduzione aziendale. Si è tenuta stamattina alla Scuola Regionale dello Sport a Ragusa una conferenza nazionale sul tema L'Amianto, un pericolo mortale sconosciuto. L'iniziativa promossa dal Comitato Provinciale di Ragusa dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ONLUS ha permesso di analizzare vari aspetti del pericolo amianto. Vediamo il servizio. Non esistono vittime di serie A e vittime di serie B. Sono state queste le parole usate dal Presidente Nazionale dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni per commentare la sentenza storica di qualche giorno fa emessa dal Tribunale di Torino che ha definitivamente sancito la natura letale dell'Amianto. E di Amianto e dei rischi che ogni giorno si corrono anche inconsapevolmente si è parlato durante la conferenza promossa dal Comitato Provinciale di Ragusa dell'Osservatorio Nazionale Amianto che si è svolta stamattina alla Scuola Regionale dello Sport del Capoluogo Ibleo. A partecipare tra gli altri sono stati il Presidente Nazionale della Fondazione Associazione Italiana Oncologia Medica Carmelo Iacono, il Presidente dell'Ona Ragusa Turi Occhipinti e il responsabile della sede INAIL di Ragusa Giorgio Stracquadagno. L'Amianto ha fatto le sue vittime e purtroppo continua a farne anche a Ragusa. Questi dati, oltre 600 i lavoratori già dichiarati esposti all'Amianto e 300 le pratiche legali raccolte dal Comitato Provinciale dell'Ona. Ma Ragusa e tutta la Sicilia richiedono giustizia. L'appuntamento di oggi è fondamentale in quanto da Ragusa ma qualche giorno prima anche da Siracusa sono partite due nuove denunce penali a carico dei smidaini e dei cartier, i padroni dell'Ethernit che avevano un stabilimento anche qua giù in Sicilia e rispetto al quale non risultano, le vittime non risultano contemplate nel capo di imputazione. Anche i morti della Sicilia debbono trovare giustizia perché non ci sono morti di serie A e morti di serie B. Durante la conferenza è stato proiettato il documentario film L'Amianto di Nadia Tumino con la partecipazione dell'attore Marcello Perracchio che ha raccontato la storia di alcuni operai o familiari che si sono ammalati di mesotelioma, una delle forme tumorali più gravi che colpisce che è stato esposto al contatto con il materiale. Una contrita partecipazione di pubblico ha con attenzione seguito la conferenza di stamane a dimostrazione che quello dell'Amianto è un argomento che interessa tutti e soprattutto che preoccupa. È un argomento sentito perché l'Amianto si è rivelato un elemento killer ed è presente purtroppo non solo nelle industrie dove si lavoravano certe produzioni e quindi con pericoli notevolissimi per quanto riguarda i lavoratori ma anche in tutte le nostre casse pensiamo a tutte le detettorie a tutti i recipienti per l'acqua a tutti quegli elementi che tranquillamente avevamo sotto mano perché erano di comune uso ed allora quindi l'Amianto diventa un pericolo quindi è importante questa manifestazione servirà a sensibilizzare tutti sull'importanza di questa problematica e sulla solidarietà concreta che dobbiamo avere verso chi è stato colpito da questa disgrazia dovuta a un elemento killer quale è l'Amianto. E cambiamo decisamente argomento organizzata dalle associazioni Antea ed Il Filo di Seta si è tenuta ieri pomeriggio a Vittoria nella Sala Mandarà una conferenza il tema era l'affido familiare vediamo il servizio. Le associazioni Antea ed Il Filo di Seta insieme per discutere di affido familiare ieri pomeriggio nella Sala Mandarà a Vittoria le due associazioni hanno organizzato una conferenza sull'affido familiare durante la quale alcune famiglie affidatari hanno portato le loro testimonianze ospiti dell'incontro Marcella Pace, psicologa dirigente del secondo consultorio familiare di Vittoria che ha parlato degli aspetti psicologici dell'affidamento ed Elio Tasca dirigente dei servizi sociali del comune di Scicli il quale ha presentato una relazione su aspetti sociali e giuridici dell'affido familiare quest'ultimo era presente all'incontro nella duplice veste di dirigente del comune di Scicli e di padre affidatario L'affido familiare non è una cosa facile non per tutte le famiglie è un impegno grandissimo che dà molto lavoro ma nello stesso tempo tanta soddisfazione io sono in veste qui sia di dirigente dei servizi sociali ma come genitore affidatario quindi so quanto è duro però alla fine è sempre molto di più quello che riceviamo le famiglie che quello che diamo che non è preventivato all'inizio i minori che non riescono ad essere inseriti in una famiglia finiscono in istituti che per quanto utili non riescono a sostituire una famiglia e poi questi ragazzi a 18 anni vengono mandati via perché la legge non prevede più di rimanere in istituto casa famiglia ed è sono facile preda della malavita perché spesso sono disoccupati non hanno le famiglie naturali più alle spalle quindi vedete che impegno può esserci sia per le famiglie dal punto di vista sociale ma sia i risultati per i minori è stata inaugurata questa mattina nei locali dell'Enoteca regionale Strade del Vino Cerasuolo di Vittoria la seconda edizione della mostra Bonsai Città di Vittoria organizzata dal Vittoria Bonsai Club e patrocinata dall'assessorato comunale al turismo oggi in programma una dimostrazione Bonsai a cura di Giovanni Mugnas e Sebastiano Villante questa sera invece alle 20.30 una cena di gala per l'intera giornata sarà inoltre possibile degustare vino la mostra resterà aperta anche domani dalle 9 alle 18 e in chiusura lo sport ci occupiamo adesso di calcio domani in eccellenza si gioca l'ottava giornata di ritorno il Comiso sarà impegnato a Catania mentre il Ragusa farà visita alla Leonzio sentiamo domenica in programma l'ottava giornata di ritorno del campionato di eccellenza il Comiso dopo il successo nel derby contro il Modica è ancora alla ricerca di punti salvezza contro l'atletico Catania i casmenei faranno visita agli etnei giocando sicuramente a viso aperto con l'obiettivo della vittoria il Ragusa capolista farà visita alla Leonzio penultima in classifica sperando in un passo falso dell'altra capolista Messina intanto l'esterno difensivo Giovanni Gona è stato convocato nella nazionale italiana Under 18 e intanto come detto in vetta la lotta continua i riflettori sono puntati allo scontro diretto dell'undicesima giornata contro il Città di Messina per quanto riguarda le altre squadre e il Vittoria sarà impegnato in casa contro il Tre Castagni mentre il Modica ospiterà la Cicatena Mister Sardelli dovrà fare a meno degli squalificati Strano e Privitera Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Free News e vi ricordo che potete leggere online le nostre notizie e rivedere i nostri TG su www.freetvonline1.it Buon fine settimana